Anche tu finalmente in campo come Nicola Sviola, nel senso che non c'eri stato nelle altre partite, vi era stata chiesta la reazione un po' da tutti, immagino anche dal mister, ma anche dalla vostra coscienza, diciamo così dopo la brutta prestazione di Livorno, cosa è accaduto Luca? Anche perché come diceva mister Bucchi è un benevento che aveva gestito bene, almeno in termini difensivi, fino alla rete, alla rete della Cremonise. Buonasera a tutti, è stata una partita secondo me sotto il piano difensivo, disputata perfettamente dalla nostra squadra. Poi nel finale ci siamo disuniti, forse magari cercando un po' troppo il gol, ci siamo sbilanciati e sul gol eravamo posizionati veramente male. Allora abbiamo un po' chiesto le stesse cose a Viola, soprattutto la parte mentale, non è semplice mandare giù due sconfitte consecutive. Com'è l'umore del gruppo? Un gruppo che fino a una settimana fa toccava il cielo con un dito, ora si trova di nuovo a dover combattere in questa arena della Serie B. Sì, non è facile, veniamo da due sconfitte, però non bisogna dimenticare che anche in passato, verso l'inizio campionato, abbiamo avuto delle difficoltà e ci siamo rialzati. Adesso è il momento di rimetterci in carreggiata, ricominciare a fare il risultato e dare il tutto per tutto. Ben tornato, anche se purtroppo potevi tornare con un risultato diverso, ce lo curavamo tutti. Ascoltami, siete più arrabbiati o più delusi? Un po' tutte e due, devo dire. Arrabbiati perché è una partita che dovevamo vincere. Delusi perché l'avevi persa all'ultimo minuto su una serie di rimpalli e distrazioni nostre. Praticamente due trasferte consecutive che dopo la vittoria quasi al fotofinish contro il Pescara vedono il Benevento passare dal secondo al sesto posto anche in virtù di una classifica che è cortissima. Adesso mancano dieci battaglie, dieci finali. Secondo te il Benevento visto in queste due trasferte con tantissimi difetti, con tanti errori, può di nuovo rimettersi, rilanciarsi per riportarsi nelle posizioni di elite della classifica? O queste due sconfitte hanno un pochettino compromesso i sogni di promozione diretta? Dai, diciamolo francamente, senza peli sulla lingua. Per me queste due sconfitte non hanno compromesso niente perché lo dimostra il campionato di quest'anno in cui qualunque squadra può andare in qualsiasi campo della Serie B e vincere o perdere. Lo dimostra la partita del Brescia ieri che stava perdendo 2-0 e è riuscita nell'impresa di rimontarla. Comunque tutti possono perdere con chiunque. Noi adesso abbiamo dieci partite, dobbiamo cercare di fare il più punti possibile in queste dieci partite e basta. Noi siamo artefici del nostro destino. Abbiamo recuperato pienamente Lucantei? O ci farai di nuovo degli scherzi, tra virgolette, nel senso che mancherai? No, no, sto bene. Ho avuto un problemino fisico, ma niente di grave. Ho giusto una contrattura, niente di più. Abbiamo avuto due partite nel giro di 4-5 giorni.